buongiorno a tutti per chi non mi conosce io sono maurizio testa sono il presidente amministratore delegato di artes srl società benefit e coordinatore del progetto nazionale artes oltre a essere anche l'ideatore del modello story living experience di cui parleremo di cui parleremo questa questa mattina allora disciplinare story living experience farò un breve cappello come ho fatto ieri mattina e farò anche domani mattina per chi non ha seguito le puntate precedenti perché l'obiettivo è anche inquadrare le iniziative che come progetto artes stiamo portando avanti in modo che si capisca un po il senso allora la battuta è che il turismo era un mercato in grande momento e adesso il mercato si riduce e la competizione sarà più agguerrita ecco chiedo scusa a chi ha già sentito un po questa prefazione ieri che oggi un po la riprendo cioè chiaro che ci vorranno quanti anni due tre anni per tornare ai numeri incredibili del 2019 in cui diciamo i viaggi erano avevano superato se non ricordo male un miliardo e mezzo di viaggi all'anno ecco vi ricordo le statistiche che un miliardo e mezzo di viaggi non sono un miliardo e mezzo di viaggiatori ci sono viaggiatori che fanno più viaggi in un anno tanto per vostra cultura la fascia diciamo dei cinesi medio alto spendenti che molto ci interessa è un è un attributi di soggetti che fanno sei sette viaggi all'anno per cui di cui la metà sono diciamo in zona asiatica e l'altra metà sono in altre parti del mondo ecco quindi se i viaggi sono ridotti perché c'è il covid perché ancora ci sarà instabilità in sicurezza per mili motivi è chiaro che la competizione è più agguerrita e tutte le nazioni vogliono fare turismo ok allora il grande punto che l'italia negli anni 50 60 era il numero uno al mondo e quando i viaggi erano molti molto meno poi i viaggi sono aumentati però l'italia ha perso quota di mercato e oggi siamo al sesto posto eh superati e questo è un po' incredibile dalla gran bretagna che cosa ci dice questo che l'italia è il paese più desiderato le statistiche confermano questa statistica ma non è più da da qualche decennio il più acquistato parlando con i consulenti americani mi ricordo in una eh sessione in cui avevo partecipato e l'idea della gente è ma tanto l'Italia è così bella che si vende da sola e anche noi italiani diciamo la filiera dell'incoming eh italiana ne è convinta eh tanto per cui noi continuiamo a vendere materia prima e non diciamo allestimenti e materia prima intendo dire il Colosseo Venezia quindi diciamo quello che la nostra basta mettere un dito e esce il petrolio del turismo italiano ecco questa situazione eh di abbondanza di petrolio italiano però male si sposa con la concorrenza internazionale perché è chiaro che tutti volendo fare turismo si sono industriati e chi ha poco si è inventato un sacco di iniziative cito sempre la Nuova Zelanda come esempio virtuoso di innovazione turistica ecco oggi noi parleremo anche appunto del disciplinale Story Living Experience che a mio avviso è la formula turistica più innovativa a livello mondiale lo dico non per diciamo superbia intellettuale ma per aver fatto un'analisi approfondita dell'offerta in generale però la cosa che più si avvicina a un'offerta sofisticata come lo Story Living Experience lo trovate in Nuova Zelanda per dire che hanno meno risorse diciamo dell'Italia ma le sanno valorizzare molto molto di più eh non sto qui a fare esempi ma andate un po' cercare su internet troverete delle iniziative veramente eclatanti quindi chi ha meno si industria e fa un gran cancan e alla fine però siccome il mondo è fatto da tante nazioni tutti si prendono una quota e quindi la nostra quota è sia ridotta nel corso degli anni allora ehm quindi che fare dobbiamo reagire ecco allora distinguersi per non morire o per ecco qui la torta con la bella ciliegina quindi il tema che poniamo con lo Story Living è creare una eh diciamo allestimento eh una formula di intrattenimento turistico innovativo figlio dei tempi che diventi un motivo di attrazione per il paese ma anche per destinazioni magari meno famoso per situazioni che magari hanno meno motivo di avere attrattività come si fa a guadagnare quote di mercato allora o fate come Iliad che eh ha abbassato i prezzi ha dimezzato le tariffe con tutte le conseguenze Iliad tra l'altro non tutti lo sanno ma ecco o fate come iTunes che invece innova ricorderete che iTunes è stata una innovazione come si dice disruptive no questa parola che va di moda cioè eh prima c'erano i CD e prima c'erano i dischi il CD alla fine comunque un disco l'iTunes è stato figlio dall'iPod e tutto un mercato eh sulla musica che non esisteva quindi l'innovazione eh se voi vi intendete di strategia ci porta in quello che in strategia si chiama Oceano Blu cioè noi possiamo stare sulla spiaggia a vendere eh i nostri prodotti dove tutti eh ci sono un sacco di concorrenti tutti vogliono vendere e quindi si va sul prezzo si va sui volumi e il margine si riduce e spesso anche la qualità un po' diciamo non è ricente oppure cerco un mio mercato la mia nicchia attenzione che è parola nicchia da considerata a livello globale per cui una nicchia globale è una nicchia di grandissimi volumi allora se noi vogliamo portare in Italia un turismo di medio alto livello che non è solamente un aspetto economico ma anche culturale quindi un turista maturo sofisticato eh attento che cerca l'incontro eh per cui risposto anche a investire a spendere ecco dobbiamo cercare delle nuove formule perché le formule attuali magari sono un po' diciamo eh o meglio altri paesi hanno fatto meglio parliamo sempre purtroppo di Francia e Spagna sono considerati più industriali nel senso di processo di professionalità di qualità dell'Italia nel turismo moderno e quindi hanno eroso quota di mercati ricordo che la Spagna fa sessantotto sto parlando del 2019 chiaramente quindi anni in cui il covid ancora non c'era allora negli anni del covid eh negli anni scusate prima covid eh eh gap tra dell'incoming quindi di stranieri che entrano in Italia sono quasi ventiquattro miliardi di euro tra noi e la Spagna sessantotto la Spagna quaranta quattro se lo vado da to noi sono ventiquattro miliardi di euro che sono quasi tre milioni di posti di lavoro quindi eh capite che la Spagna ha un PIL che è la metà dell'Italia e quindi diciamo abbiamo guardandola in positivo abbiamo ampio spazio di miglioramento quindi bisogna per forza vedere il bicchiere mezzo vuoto perché si può riempire in questo caso quindi grande potenzialità per l'Italia nel turismo come penso si capiranno i prossimi anni quindi sono gli investimenti dedicati al turismo che arriveranno quindi una quantità immane di danari di investimenti speriamo di spenderli bene ecco perché se poi li spendiamo e non costruiamo il turismo che la gente vuole sarebbe appunto che a capo quindi il prezzo e iTunes innovazione quello che sta cambiando è che il viaggio sicuramente c'è un viaggio di destinazione per cui uno che non ha mai visto il Colosseo lo vuole vedere si troverà in compagnia di tanta gente eh diciamo che il Colosseo diventa un commode un attrattore le cascate del Niagara il Grand Canyon la Torre Eiffel ecco cioè ci sono degli stereotipi che però non sono infiniti che attivano una gran parte eh di eh appunto visitatori e eh però oltre le solite cose quindi Colosseo le spiange le camere da letto per chi eh vende camere da letto eh è chiaro che il turismo eh si sta spostando da che cosa vivremo quindi da un un prendere un consumare diciamo un luogo ad un essere il luogo quindi eh non voglio citare Eric Fromm con il suo libro da eh avere o essere ma eh diciamo questo è il cambio sociologico in particolare nel mondo diciamo ehm occidentale storico includendo in questo mondo anche in Giappone e le motivazioni di viaggio dei cinesi sono un po' diverse però la cosa interessante è che vanno comunque nella stessa direzione del protagonismo di essere protagonisti dell'avventura turistica ecco quindi per fortuna abbiamo una buona cosa quindi qui dobbiamo riposizionare su emozioni, relazioni e tematismi quindi le emozioni vengono o perché le cascate del mia gara sono meravigliose e ehm eh come si dice e eh eh andate un attimo solo che verifico ecco perfetto sì eh o perché sono meravigliose quindi c'ho un asset diciamo una materia prima così come Dio l'ha fatta nelle cascate del mia gara oppure appunto vivo emozioni incredibili in Nuova Zelanda dove ti portano con l'elicottero ti ti lasciano una settimana a fare adventure in relay in Persi insomma situazioni veramente incredibili e molto coinvolgenti. Quindi emozioni, relazioni quindi la relazione ieri parlavamo con alcuni eh redattori dove eh qualcuno diceva il il post covid la relazione sarà premium. Ora è chiaro che la relazione, noi italiani sulla relazione siamo un popolo con una marcia in più perché ci viene spontanea però ehm lo spontaneismo poi nel prodotto turistico diventa improvvisazione per cui noi senza perdere la genuinità, la familiarità, l'autenticità di tutte le nostre emozioni, relazioni e tematismi è chiaro che dobbiamo introdurre anche una competenza e quindi professionalità. Altrimenti arruffiamo prodotti che vanno molto bene per i fai da te ma non vanno altrettanto bene per la filiera intermediata. Ecco ehm dunque se le attivi se il cosiddetto mercato tradizionale tours in activity che a livello mondiale ha un peso un 10 per cento quindi adesso vado a memoria se tutto il mondo del turismo diciamo sto parlando sempre del 2019 vale circa adesso non mi ricordo 1.600-1.800 miliardi come le activities vanno sui 125-130 miliardi di euro per cui a livello mondiale è una cifra significativa ma è una piccola parte no? Le nostre experience sono una piccola parte, i nostri tours sono una piccola parte eh però è la parte che comincia a motivare il viaggio mentre prima era solamente ancillaria. Quindi il peso delle activities come fatturato rimane contenuto ma di ma aumenta ehm notevolmente il suo peso nella decisione di acquisto. Ecco allora se quindi quindi che si deve fare se noi tutti dicono ma come mai noi italiani potremmo fare tante cose con il nostro turismo eccetera perché non lo facciamo chi non è nel settore si meraviglia perché dice noi abbiamo il petrolio del turismo eh sì ma il petrolio bisogna estrarlo che ci vogliono processi di estrazione non sempre quindi bisogna inventariare il territorio e bisogna mettere a sistema il territorio perché nel turismo diciamo eh moderno il territorio deve essere integrato non è cioè il turista vuole immergersi nel territorio per cui non puoi avere una scarpa e una ciabatta. Il territorio deve essere organizzato in una rete accogliente dove l'accoglienza è un concetto che non è la stanza da letto ma è proprio persone che accolgono persone in senso diffuso. Ecco quindi abbiamo ospitato nelle nostre trasmissioni eh belle esperienze anche sui borghi dove eh molti borghi si stanno evolvendo, stanno creando la comunità accogliente, cooperative di comunità, piccoli borghi dove con lo spopolamento però in realtà hanno le camere, hanno le case ecco la gente che è rimasta comincia ad aggregarsi. Questo processo è in atto, processo di estrazione e di messa a sistema dell'offerta ma poi va raffinata quindi il prodotto va eh che non è un problema di pacchetto turistico ma è un problema di experience design quindi noi dobbiamo creare pali in sessi esperienziali di altissimo livello ehm partendo dalla materia prima per me per esempio una lezione di cucina è una materia prima non è un pali in sesso esperienziale è un'attività ok poi ehm c'è un problema semantico per cui quello che una volta si chiamava un'attività adesso si chiamano esperienze ma ehm spesso non non rientrano nella categoria appunto dell'immersione e dell'incontro che stiamo dicendo che è qualcosa in più rispetto alla singola esperienza e poi c'è un tema di distribuzione ora non c'è dubbio che le OTA aumenteranno le OTA a meno che ehm diciamo non si riesca a risolvere un problema che ancora non è del tutto risolto sulla ehm sull'automatico packaging del prodotto perché ehm avremmo bisogno di avere tutta l'offerta diciamo sui portali ma così non è ancora c'è molta offerta sto parlando della frammentazione dell'offerta esperienziale no? Che è fatta poi da persone del territorio non non è che tutti sono dentro un sistema di ehm portali online per cui c'è bisogno comunque di aggregazioni locali e c'è bisogno ancora di intermediazione anche perché l'intermediatore poi cerca la cosa appunto speciale la cosa di livello la cosa che non è un commodity la cosa che te la do perché io conosco un tizio che fa quelle cose lì a Napoli eccetera dovendo definire il turismo esperienziale allora la nostra definizione non esiste una definizione ufficiale cioè non è come eh la misura del metro dove c'è una barra di 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 una barra di acciaio mi pare che misura un metro depositato in un cavo a Parigi quindi non c'è nessuno che può dire questo è il turismo esperienziale il turismo esperienziale è una parola ambigua ecco io vi do quella che pensiamo sia una buona definizione in funzione di una domanda eh io penso che nel corso del tempo questo nome di turismo esperienziale potrebbe cambiare nome eh se ne parla molto con gli americani per questo perché appunto eh ormai tutto esperienziale per cui non si capisce bene di cosa stiamo parlando comunque dove i turisti mettono le mani in pasta dove sono protagonisti attivi non passivi seguendo le loro passioni quindi appassionati di tematismi insieme ai locals quindi diciamo i locals che anche la guida turistica è un local quasi quasi molti non la vorrebbero la guida perché è troppo un mestiere ecco quindi local è gente con cui sto e io mi sento a casa mi sento in famiglia mi sento cittadino temporaneo di una certa situazione quindi non voglio sentirmi trattato come cliente ok ecco questo diciamo questo modo che era microscopico un po' di anni fa oggi sta aumentando notevolmente delle sue quote una volta appunto diciamo oggi se un 60 per cento ma probabilmente questo 60 si è già ridotto questi anni e un 40 cerca questo tipo di immersione ecco diciamo che sicuramente il trend è che il turismo di massa diminuisce e invece aumenta questo tipo di turismo questo porta un'evoluzione nelle strategie di marketing abbastanza importante perché da mercati di massa passiamo al cosiddetto massa di mercati cioè ognuno ha il suo gusto quindi questo 40 per cento in realtà è iper segmentato in tante nicchie ripeto nicchie che però a livello mondiale diventano significative le nicchie sono quelli appassionati del mosaico quelli appassionati di runners i ciclisti cioè quelli che hanno la passione uno ha la sua passione e va in un certo posto cercando lo specifico del posto attorno alla propria passione ok vedete io vado in bicicletta ma o vado a cavallo ma che differenza c'è tra andare a cavallo nelle belle dolomiti o andare in slovenia che hanno bellissimi boschi allora io devo c'è la 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 passeggiata a cavallo più o meno è la stessa cosa probabilmente slovenia costa anche di meno per cui vado a slovenia e la slovenia si propone come bella natura eccetera avete visto negli ultimi anni quanta pubblicità ha fatto la slovenia allora io dovrò cercare quando per motivare il mio cliente a venire nelle mie passeggiate a cavallo dovrò cercare qualche altro ingrediente che non è solamente cavallo e bella natura devo cercare qualche cosa che solo noi abbiamo quindi il nostro genio sloci va evidenziato intorno appunto a questi tematismi allora diciamo che questo concetto di immersione in realtà poi va in modo pervasivo a toccare tutti i turismi cosiddetti no allora il turismo esperienziale se è quello che ho cercato di dire quindi che tocca qualsiasi argomento non è che tocca solamente eh fare la appunto la lezione di cucina cioè può essere turismo si può creare un prodotto di turismo esperienziale davvero in un museo una animazione nei musei fanno già i laboratori per i bambini però si possono creare animazioni che ingaggiano gli adulti noi siamo stati chiamati spesso a collaborare con musei e fare appunto iniziative di questo tipo quindi dove c'è un aspetto diciamo eh tematico del museo quindi architettonico artistico eccetera ma c'è anche un aspetto di experience di immersione su tematismi che coinvolgono in qualche modo il museo ma dove il turista è attivo allora se questo è il turismo esperienziale certamente si sovrappone col turismo sostenibile perché se la relazione è il cuore la relazione è la cosa più sostenibile che ci sia non inquina è intangibile non consuma non inquina però rimane per sempre perché poi quella relazione rimane nella memoria rimane per tutta la vita c'è stata una relazione io stesso ricordo situazioni diciamo di viaggi normali in cui però incontri con persone del posto un po' particolari a distanza anche di 50 anni ancora bene ricordo ecco la gastronomia lo sportivo l'avventure dove c'è l'adrenalina l'attivo il cavallo eccetera 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 probabilmente abbiamo tante altre formule che qui non sono scritte allora quindi cosa dobbiamo fare allora se la relazione il motore dell'emozione l'emozione non è l'unico motore dell'emozione chiaro se io vedo le cascate della gara non c'è dubbio rimango emozionato se vado a vedere granchenio io mi ricordo che sono arrivato e per un motivo che non dirò è stata un'esperienza mozzafiato che non posso mai più dimenticare quindi però diciamo che dove non ho la roba eclatante non ho la materia prima eclatante l'incontro con le persone che condividono quella passione giocata su genio sloci crea veramente un'emozione e questo porta la memoria alla fidelizzazione al ritorno e passa parola la fidelizzazione qui si intende che una volta che il cliente allora o fidelizzo un cliente che già ho o sono attrattivo per un nuovo cliente che è il motivo per cui abbiamo alzato l'astricena con lo story living se il cliente di qualità lo mandano in spagna lo mandano in francia io devo avere qualche cosa di attrattivo di alto livello per dire no torna in italia rimandano in italia che non è vero che siamo improvvisati abusivi e tutta quella roba lì sull'esperienziale quindi ti do un prodotto che abbia queste caratteristiche quindi fidelizzazione ritorno e passa parola per attrarre un cliente di più alto livello ma perché insisti su questo beh scusate io mi occupo di marketing da un po' di tempo e il problema del marketing e cercare e sognare di avere il cliente che scegli quindi se io dovessi scegliere il cliente non è che sono consumato dai clienti che arrivano e io vorrei creare un'offerta che accoglie un cliente che in qualche modo ho cercato spero che nessuno si scandalizzi di questo ragionamento però di sicuro non si scandalizzano a venezia che sono consumati da clienti low spending spesso low spending che vanno a venezia sporcano fanno e poi non consumano niente ecco cinesi di secondo livello qui quel cinese che fa il giro dell'europa in dieci giorni e corre 50 mila chilometri in dieci giorni si ferma mezza giornata a venezia e poi va a mangiare al ristorante cinese di mestre lasciando bottiglie bottigliette roba in giro per per venezia e chiaro che venezia merita di più allora io se devo tra l'altro appunto parlando con i veneziani e con le guide con cui abbiamo lavorato e messo anche in campo una bella offerta diciamo proprio veneziana e io devo sperare di creare un prodotto per il turista di ritorno che nel corso degli anni è quasi sparito da venezia se il turista di ritorno era abbondante vent'anni fa oggi un turista di livello la banalizzazione della città ha fatto sì che un po la volta il turista di ritorno non c'è più questo problema perché turista di ritorno cerca la qualità cerca un turismo più lento eccetera quindi dobbiamo imparare a creare un'offerta distintiva distinguerci quindi solo qui non solo il genio sloci non solo che bella che l'italia che abbiamo detto che certamente lo sanno tutti ma dobbiamo anche confezionare prodotti più ecco prodotti innovativi professionali con marchi di qualità che rassicurano chi si occupa di ospitalità capisce bene che l'americano che vede che l'hotel di san giovanni a firenze è della catena best western allora uno dice ok allora mi fido perché dietro c'è processo c'è industria c'è qualità cioè c'è qualche cosa che mi rassicura quindi il tema di rassicurare la filiera è molto importante uno dice eh ma adesso con le otta tu ti rassicuri con le referenze ma nel turismo interenziale che è più pericoloso del turismo normale perché il turista mette le mani in pasta quindi ci sono una marea di normative di attenzioni che l'improvvisato non segue ma anche sul cibo eccetera per cui il fai da te cerca la referenza dell'emozione magari anche la trova ma la filiera mai più manderà qualcuno se non ha garanzie che eh sì facciamo l'esperienza della lezione di cucina ma poi ognuno si mangia il suo quello che ha cucinato non è che si mette insieme tutto quanto ok e quindi l'altro problema è che siccome ci sono tante nicchie e tanti canali è un vene di vendita canali di vendita punti vendita infiniti con target infiniti eh la famiglia che magari condividono la passione però sono cinesi allora hanno una particolarità sono americani ne hanno un'altra sono le famiglie no sono coppie sono adulti sono anziani ecco tutto questo e sono venduti da un cliente di viaggio sono venduti da uno che ha il portale eh che operano tour operator ecco noi dobbiamo avere prodotti che si adattano velocemente per cui dare il tailor made però non ha i costi del tailor made allora un attimo solo che vedo che mi mandano dei messaggi che vuol dire che c'è qualche domanda se vediamo se rispondo subito oppure dopo eh ah va bene poi rispondo io ho visto visto va bene va bene poi vediamo poi rispondo dopo la domanda di chi che mi sta arrivando eh allora vado avanti intanto con il ragionamento prometto che poi rispondo a queste domande in coda ecco devo stare attento al timing ecco allora a questo punto il il territorio diventa palcoscenico attenzione non si deve fare teatro però è chiaro che il territorio diventa diciamo il palcoscenico dove avviene l'avventura se il turismo esperienziale è una avventura nel senso appunto dello story living ma anche se non fosse story living comunque io voglio essere protagonista devo compiere un'impresa ecco quindi il concetto di story living è compiere l'impresa io turista ho fatto qualche cosa che poi mi rimane memorabile adesso vediamo un pochettino com'è allora quindi c'è un tema di creare posizionare l'offerta italiana eh questa è una slide un po' complicata un po' lunga allora però vado via veloce eh cliente fai da te chiaramente eh il prezzo eh mediamente è abbastanza importante no? se sta parlando di un'escursione più di 60 euro non te la non te non riesci a venderla sulle otta l'intermediato invece è già quindi consulenti agenzie di viaggio e il luxury è su misura intanto per spiegare cosa cosa può essere un luxury noi abbiamo avuto un tour operetto italiano che ci ha coinvolto perché non andava non andava a capo di una richiesta tailor made di due americane che volevano fare due farmers eh cowgirl quindi diciamo allevatrici che volevano fare un viaggio in Italia sul tematismo della carne quindi sia mangiarla ma anche vedere come si allevano eh le eh bestiame nelle varie tappe d'Italia e noi l'abbiamo creato grazie al nostro network ehm perché è chiaro che qui devi essere come dire dentro le viscere eh della della località ecco eh molto difficile organizzare un viaggio se non sei dentro eh però a quel a quel punto eh il tour operetto dovrebbe avere rappresentanti specializzati sui tematismi in ogni micro parte d'Italia non è che è semplice ecco allora in questo senso noi avendo una rete appunto con la con la community artessa abbastanza diffusa abbiamo dato una risposta per la punta dell'ansia un tailor made fatto su misura ecco mentre l'intermediato cioè nel tailor made costa di più fare fare quasi progettare il viaggio che non farlo perché ci va un sacco di lavoro insomma per progettare un viaggio di questo tipo nell'intermediato dobbiamo avere invece un semilavorato ecco il cliente fai da te compra una singola attività ok singola attività palinsesti vado veloce sal service consulenza standard su misura eh bottone con book now e invece su richiesta ecco poi dal dal basso all'alto tutte le sfumature delle varie possibilità sotto c'è spesso improvvisazione ripeto l'improvvisazione in sé non è negativa è che si portano dietro rischi e non si sa bene cosa si compra mentre la professionalità vuol dire che c'è un processo ci sono competenze ora quello che mancava in Italia è a nostro avviso una professionalizzazione specifica sul turismo esperienziale che penso che noi abbiamo introdotto con il progetto Artes ipotizzando di dire che il mercato target è quello lì dentro che è un mercato di valore che non siamo sicurissimi che stiamo prendendo cioè abbiamo l'impressione che questo c'è un mercato che se ne è andato in altre parti del mondo ecco quindi il tema del semi sartoriale quindi fare prodotto in modo che il costo di fare il prodotto sia come dire poco rispetto al ai costi del prodotto in sé eh a chi lo vendiamo? Ai cinesi? Ma ai cinesi non è facile certo un cinese che interessa a noi può spendere anche mille euro al giorno però devi vendere insieme con i cinesi 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 quindi tu devi avere l'amico cinesi e italiano che vende agli italiani eh gli americani ehm gli americani è chiaro che in Italia in Nord Italia abbiamo i tedeschi che vanno forte e ehm però ehm ecco il tedesco fosse un cliente più difficile per questo tipo di animazioni e molte regioni vorrebbero un po' smarcarsi, speriamo che non sentano i tedeschi ecco, tutto il mondo anglofono in generale è sicuramente interessante per cui se andiamo a vedere appunto così a spanne il mondo anglofono è un quarto di tutto il mercato per cui ce n'è da fare solo col mondo anglofono allora ecco che per un'offerta se voglio vendere alla fascia intermedia quindi all'intermediata questi vogliono la soluzione unconventional off the beaten track e questo è il motivo per cui abbiamo alzato l'asticella dello story living perché adesso vado velocemente a farvi vedere un po' come è costruito disciplinare così lo vedete a livello macroscopico insomma poi chi vuole impararlo farà i nostri corsi però ma com'è che ti sei inventato lo story living perché lo story living intanto diciamo ci rinte di nuovo perché il concetto della storia è vecchio di 3.000 anni non era mai stata applicata al turismo to court mentre diciamo ovviamente fa parte del mondo dei romanzi fa parte del mondo dei film ma allora facciamo le rifinzioni no adesso cercherò di spiegare che diciamo l'avventura che si vende è un'avventura semplicissima ed è tutto genuino vero l'unica cosa è che entriamo nella cosiddetta transnarrativa cioè portiamo il turista un po' a giocare pur essendo cultura eccetera ma c'è una componente vediamo se qua no qui non c'è scritto forse c'è uno slide dopo che spiega c'è una componente di intrattenimento quindi qualcuno che parla la guida turistica fa trattenimento parla le persone che incontriamo parlano quindi intrattengono ma c'è una componente anche di gamification e di education cioè il turista impara impara a fare delle cose quindi è protagonista e poi anche un po' gioca ecco questo cocktail di situazioni crea una forte emozione e per una categoria di clienti è qualche cosa di interessante ritorniamo a dire ma allora questo è il turismo che vogliamo vendere no questa è una ciliegina su una torta cioè il viaggio è la torta con tanti ingredienti che sono quelli che abbiamo quindi anche i soliti ma ci mettiamo qualche cosa di nuovo sopra che può attirare perché allora l'experience fatta in questo modo diventa content marketing quindi io ti attiro con il digital perché ti parlo delle emozioni che vivrai a destinazione quindi riposiziono la destinazione riposiziono l'albergo riposiziono l'attività della guida eccetera perché non è più vieni ti do la camera da letto no vieni che ti faccio vivere delle emozioni e se io albergo ho appaltato per esempio quindi cominciamo già a dire quello che è stato detto ieri tra l'altro che l'operatore di turismo esperienziale può anche progettare experience per terzi ecco se io so farti un'esperienza sull'albergo e l'albergo magari è un albergo storico antico c'ha delle cose interessanti vieni che ti faccio vivere un'emozione nel mio albergo questa capacità di trasferire l'emozione con lo story living diventa più facile altrimenti bisogna rampicarsi sui vetri lo story living è un sistema sia per far vivere diciamo un'avventura una piccola storia storie da vivere insieme stories to live together come dice il nostro payoff ma anche storie che ti racconto e diventano attrazioni per cui ti ingolosisco a venire da me ok una volta l'albergo metteva la piscina adesso la piscina ce l'hanno i tanti o la sauna ecco questi servizi o il breakfast bellissimo vanno tutti bene anzi vanno benissimo ma poi quando tutti ce li hanno diciamo siamo poco distinguibili allora facciamo le storie e uno dice ma poi ce l'avranno tutti e attenzione che le storie siccome sono rispettose dello specifico del posto e delle persone del posto non ce n'è una uguale all'altra per cui in realtà sono infinite storie per cui i territori è come se diventassero dei cinema dove girano infiniti film che sono legati al territorio che il turista sceglie di poter è chiaro che il talento poi di fare queste animazioni faranno la differenza allora l'artess cosa ha costruito un disciplinare che adesso vediamo velocemente la professione dell'operatore di turismo spedenziale gestita dalla Assotes e il club di prodotto nazionale questo è la più recente purtroppo partito durante poco prima del covid dove integriamo tutti i soggetti che sono titolari di un prodotto story living perché dico titolare perché titolare vuol dire che magari un hotel l'ha fatto fare a un operatore di turismo periziale per cui l'hotel è del club di prodotto però non è che lui si è progettato il prodotto lo ha appaltato però lui lo propone come elemento caratterizzante l'hotel agriturismo quello che è allora velocemente in questi ultimi dieci minuti vi faccio vedere un attimo i basamenti di questo disciplinare che si svolge allora tutto viene descritto in un excel di fatto con dieci fogli di lavoro siamo nella rivista 5.0 cioè ogni tanto facciamo manutenzione la miglioriamo allora l'anagrafica delle passioni qual è il cocktail di passioni fino a quattro che mettiamo a disposizione vi faccio vedere dunque un attimino solo scusate che interrompo approfitto anche per farvi vedere per farvi vedere in diretta allora vi faccio vedere in diretta un prodotto cioè adesso non ve lo sto a commentare perché sono diventa lunga ma dunque condividi lo schermo ancora schermo schermo condividi perfetto allora ecco voi vedete l'anagrafica delle passioni è qualche cosa di questo tipo quindi abbiamo gli otto tematismi poi abbiamo declinati su una serie in questo caso abbiamo degli esempi narrazione tramite architettura museo questa per esempio è il prodotto il paglio degli occhi sbandieratori per il paglio degli occhi che ha una sua etichetta P00195 come dire è un prodotto è un prodotto validato secondo questo schema e che ha messo come prima ecco il nostro animatore che è il titolare dell'agriturismo in questo caso è uno sbandieratore la sua passione è sbandierare ok per cui lui mette sotto cultura fatto di folklore l'arte della bandiera e storia medievale ok noi suggeriamo una serie di possibilità vedete qua c'è anche la caccia al tesoro riferimento a canzone cioè ci sono molte modalità per erogare quel tipo di tematismo allora il numero uno è del group leader dell'OTE poi il 2 3 4 potrebbero esserci anzi di solito ci sono altri specialisti quindi qua abbiamo una narrazione gastronomica infatti poi si mangia si beve narrazione 3 narrazione cultura attorno a stili di vita a modi di pensare e 4 c'è anche una visita al castello che che lui può fare perché è l'autorizzazione del comune che è una cosa che è importante sapere questa professione per legge siccome è accreditata tramite l'associazione professionale la legge 4 2013 impone che non ci sia sfondamento su altre professioni cioè un'OTE che non è una guida turistica non può fare la guida turistica ok non lo può fare quindi noi abbiamo per esempio dei prodotti delle animazioni a Matera dove abbiamo coinvolto le guide turistiche il cellote e anche la guida turistica questo vi fa capire che i primi candidati a fare questo tipo di specializzazione sono proprio le guide turistiche perché risparmiano è chiaro che devono avere una passione che va cioè se hanno anche altre passioni è meglio allora io comincio a vedere guide turistiche che cominciano a avere diverse specializzazioni guida ambientale food sommelier ecco queste guide hanno capito che bisogna specializzarsi ecco quindi questa è la torniamo alla presentazione è una grafica delle passioni poi abbiamo quello che noi chiamiamo i 4 ingredienti e 6 caratteristiche alla fine sono 10 ingredienti con cui costruiamo il prodotto allora velocemente vi faccio vedere anche qui ingredienti allora adesso non so se si vede il primo ingrediente è estetica essere lì quindi essere lì vuol dire questi prodotti sono molti sensoriali per cui i primi 4 ingredienti muovono tutti i sensi 5 sensi poi le 6 caratteristiche sono fatte per muovere le emozioni ok per cui tu hai l'estetica essere lì quindi sono in un posto cosa vedono i miei occhi quindi qual è il paesaggio in che contesto sono e qual è e qual è il genio sloci cioè solo solo qui può capitare quella quella situazione poi c'è un aspetto di intrattenimento quindi chi parla deve essere esperto c'è una una dimensione di sperimentazione evasione e poi c'è l'aspetto educativo imparare che non è la stessa cosa di sperimentare sono due concetti separati poi il prodotto deve portarsi indietro dei livelli di esclusività adesso qui non sto a spiegare c'è tutto un lavoro dietro che nei corsi spieghiamo cosa vuol dire esclusivo cosa vuol dire autentico cosa vuol dire familiare cosa vuol dire personalizzabile e soprattutto cosa vuol dire memorabile che già qui c'è da discutere un po' tangibile intangibile chiaramente il souvenir qui non c'è che è la cosa tangibile però il turista tornerà a casa con qualcosa di concreto che sarà frutto di quello che ha fatto che ha imparato e poi il prodotto deve essere unico e ripetibile cosa vuol dire unico cosa vuol dire ripetibile queste parole sono sostanziate e noi le riempiamo di significato per cui diciamo c'è tutto un lavoro di comprensione di capire quindi il prodotto va appunto strutturato va maestrato alla materia prima che poi diventa ingrediente e caratteristica a questo punto facciamo la storia o meglio prima abbiamo ancora l'itinerario classico e poi ho coinvolto gli attori diciamo abbiamo attori non perché c'è un copione non c'è nessun copione ma perché fornitore dal senso più di un rapporto freddo invece l'attore più coinvolto gli amici insomma e lo storyboard e la dinamica della relazione la dinamica della relazione vi faccio vedere che cosa è è un'altra cosa molto importante che va amministrata allora poi abbiamo la gestione del prezzo c'è un simulatore per gestire il prezzo è molto importante la gestione normativa e dei rischi e poi la brochure la scheda web ecco e poi abbiamo aggiunto da poco l'operatività del prodotto cioè quando questo è molto utile per il booking quindi quando il prodotto è erogabile quando le strutture sono aperte e chiuse i mesi i giorni eccetera questo sistema alza di molto questo prodotto molto complesso da realizzare adesso non sto qui insomma poi chi fa il corso vede che non è facile noi potremmo rendere tutto più semplice togliendo lo story living e tutto sarebbe ancora in piedi il 70% di questo schema sta in piedi anche senza lo story living però lo story living alza di molto il livello allora il nostro concetto è tu vuoi diventare un professionista del turismo esperienziale io ti faccio diventare l'operatore di turismo esperienziale riconosciuto appunto tramite l'associazione dal ministero dello sviluppo economico quindi tu hai una competenza da chef tu diventi lo chef del turismo esperienziale e in quanto chef sai fare cose complesse poi magari puoi fare delle cose più semplici ma viceversa non c'è cioè se io so fare 20 non posso fare 100 qui si impara a fare 100 poi magari nel lavoro di tutti i giorni succede che posso fare anche 80 70 20 10 non è che si vive di story living ripeto lo story living è una competenza alta per mettere delle belle ciliegine molto belle che rendono attrattiva la mia torta ecco questo l'abbiamo già visto quattro ingredienti ve li ho già fatti vedere qua sono un po' gli assunti non sto qui anche le sue caratteristiche cioè qui il tema è creare valore nel prodotto ma bisogna sapere che queste parole sono ambigue per cui tutto il lavoro da fare durante la formazione è disambiguare le parole avere come dire concordia sul significato che il disciplinare dà le parole questo consente di costruire dei prodotti che hanno lo stesso scheletro poi i prodotti non ce n'è uno uguale all'altro sono tutti diversissimi ma hanno lo stesso scheletro questo garantisce consente di fare una validazione di prodotto e consente di professionalizzare quindi processo e validazione ok allora lo story telling story living messo qui da itinerario a story living insieme vado veloce allora qui ci si basa su un modello che è vecchio appunto di 3000 anni questo è un modello antico di come si fanno le storie per cui c'è un problema da risolvere un'impresa da compiere il turista è protagonista di fare questa impresa ma non come turista ma come blogger come cuoco cioè gli diamo un incarico e quindi gli diamo un leggero ruolo è tutto molto leggero ecco scusate se lo ripeto perché alcuni mi hanno detto ah solo col corso ho capito prima non capivo pensavo che fosse una messa di scena no non c'è teatro non c'è nessuna messa di scena le attività sono molto naturali ma vengono posizionate senza che se ne accordano con un leggerissimo gioco di ruolo ok ecco le attività da fare il palinsesto sono le attività che poi ci portano ad avere gli aiutanti relazioni l'avversario eccetera adesso non sto qui a spiegare tutto se non ci vuole ecco ecco questa è l'altra cosa di grande valore perché mentre io faccio lo storyboard che sono delle scene delle istantanee poi devo amministrare l'emozione questa è un'altra componente fondamentale innovativa del meccanismo anche chi fa un film amministra l'emozione adesso banalmente quando voi sapete che l'assassino è stato trovato il famoso giallo sapete già che fa cinque minuti il film è finito quindi inconsciamente anche la narrativa segue una dimensione simile ecco questa è disegnata proprio per il turismo invece quindi la fase di contatto come avviene la fase di creare il senso del gruppo del team eccetera l'immersione nell'avventura l'identificazione che vuol dire fare l'avventura fino al culmine quando l'impresa è compiuta poi la fase di immersione dove quasi sempre non è obbligatorio ma quasi sempre si mangia si beve si fa festa per cui tutti i momenti diciamo belli insieme e poi la distanziazione la trasformazione quando uno torna a casa e ricorda qui ci sono fasi standard diciamo che possono essere applicate indipendentemente lo ripeto dallo story living quindi anche un prodotto normale però se costruito in questo modo si porta dietro come dire una professionalità perché bisogna saperlo fare questo mestiere quindi il problema che spinge l'azione imprese racconti la grande festa quindi volendo banalizzare e il turista sempre nel ruolo del protagonista allora quindi tematismi entertainment education gamification e qua io ho terminato l'Italia può far felice tutto il mondo e servono gli italiani quindi intanto vi ringrazio per l'ascolto ma rispondo a questo punto anche alle domande prima di lasciarvi intanto spero che tutto questo ragionamento sia stato utile e interessante allora un attimo solo che torno devo interrompere la condivisione ecco qua allora le domande me le cavo veloce così poi lascio spazio alla prossima incontro allora vediamo un po' buongiorno ho la fortuna di evitare in un contesto naturale privilegiato boschi, prati vite antiche panorama ci sono portali ho preso trovato gli scudi per cercare esperienze da soli nella mia proprietà le OTA ce ne sono infinite infinite OTA Airbnb Get Your Guide eccetera eccetera quindi le singole attività le trovate voi andate lì mi inserite tra 5 minuti siete già in vendita ditemi voi se questa è professionalità io una volta che non sono diciamo che non voglio vendere niente mi sono inserito in Get Your Guide o in un altro adesso non ricordo in 5 minuti ero già in vendita la barriera quindi ditemi voi cos'è quella roba lì allora collaboro con l'azienda di tartufi gestisco e promuovo caccia del tartufo possiamo parlare di turismo tenenziale sì certo le cacce del tartufo sono sicuramente l'importante è che ci sia in questo senso diciamo della relazione che ci sia una bella animazione sulla relazione quindi non è solamente la caccia ma anche l'incontro con le tradizioni poi andare a trovare il nonno cioè non è solamente l'attività in sé l'attività in sé è sicuramente esperienziale arricchiamola di un contesto di coinvolgimento in cui per esempio mi ricordo che proprio con un cacciatore di tartufi abbiamo fatto un prodotto in cui il turista doveva non solo cacciare il tartufo ma anche imparare a gestire il cane che a quanto ho capito è una cosa che richiede un certo sistema buongiorno sono Marta Sindesi tra i blog di Smart Direct giustissimo discorso sulla relazione emozione ma come si può fare tra il contatto il turista con gli residenti oltre a bisogna avere la materia prima bisogna essere locali bisogna avere bisogna andare a avere le persone nel territorio certamente questo è la componente del lote che è fondamentale lote diventa un creatore di rete nel territorio la nonna la zia il sindaco trovare anche personaggi impensati il parroco si va dal parroco e il parroco ci spiega non è che il parroco fa la guida però il parroco ci racconta la sua storia la sua storia di essere umano in questa bellissima chiesa sì magari c'è anche il calavaggio però non è importante solo un calavaggio è importante anche il parroco capito la storia di vita del parroco perché fa il parroco non so se capite per avere la qualifica 8 è obbligatorio per attivare tutti i corsi allora bisogna passare un esame che al momento è quasi inevitabile fare almeno il corso base che cerchiamo di tenere al prezzo più basso possibile siamo in ritardo notevole nel pubblicare un libro con tutto il disciplinare in modo che chi si sente all'altezza possa anche cimentarsi senza fare i corsi per cui il nostro obiettivo diciamo certamente è noi facciamo un'attività anche di formazione eccetera ma l'obiettivo è anche fare in modo che aumenti questa professionalità l'assotes però questo lo dico per chiarezza fa un esame quindi andate a vedere sul sito assotes.it anche se uno non ha fatto il corso però deve saper fare le cose cioè non è che dice ma io faccio già esperienziare demo devi saper fare le cose devi dare visibilità che sai fare sai esercitare disciplinare story leading experience la figura l'accompagnatore coinvolto nel vostro progetto in maniera diversa il progetto coinvolge qualsiasi essere umano esperto di un tematismo poi quindi l'accompagnatore è ottimamente poi se l'accompagnatore è un sommelier è ancora meglio ok se io sono un sommelier e porto la gente in chiesa a vedere Caravaggio sono un abusivo quindi devo portare dentro nel mio prodotto sono un note sommelier sono un note cuoco mi porto dentro la guida turistica come fornitore per quel pezzo di avventura dove c'è un aspetto tipicamente della guida ai tempi del covid è possibile fare story living secondo lei beh la domanda è molto gradita perché la risposta è certamente sì perché sono piccoli gruppi quindi sono piccoli gruppi abbastanza distanziati spesso anche l'aria aperta quindi assolutamente abbiamo avuto la sensazione che il covid abbia alzato moltissimo l'interesse per prodotti di questo tipo anche perché cominciano ad essere interessanti per gli italiani e con l'italiano c'è il problema che in Italia essendo già italiano lui non vuole spendere allora cercheremo di fare degli story living più giocosi quindi caccia di tesoro dove la componente del costo del prodotto è più ridotta e c'è magari un po' di più la componente del gioco la componente del gioco ci porta sia sull'aspetto del tempo libero che non è turismo domenica cosa facciamo e sia sul tema dei weekend di prossimità allora detto questo mi sono allungato anche troppo io ringrazio tutti voi per l'attenzione e sui nostri siti trovate tante informazioni tanti webinar tante informazioni abbiamo il gruppo su facebook protagoniste territori chi è interessato e si è in contatto noi viviamo di rete di metterci insieme più siamo meglio è quindi grazie ancora e arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti